Ciao, sono Pudiana Fisi, lavoro in Dinaorg, che è una free software foundry, direi la più grande e politicamente impegnata in Europa. Ci occupiamo fondamentalmente di progetti ad alto impatto sociale attraverso la tecnologia. Io in particolare mi occupo sia da un lato tecnico che di quello di design di fornire delle soluzioni tecnologiche, degli strumenti che abbiano un alto impatto sociale. Sono qua esattamente in veste del mio ruolo per lavorare in coordinamento con gli altri gruppi di lavoro che sono qua, XYZ. In particolare il mio gruppo Y si occuperà di creare degli strumenti tecnologici, non solo tecnologici, per portare dell'innovazione sul territorio di San Vito. Viviamo in un mondo in cui il tema dei dati e degli algoritmi sempre più diventa sensibile. Abbiamo l'esempio del GAFA, i grandi giganti tecnologici, Google, Amazon, Facebook, eccetera. La sovranità dei dati, la sovranità algoritmica, l'algocrazia, la datacrazia, sono tutti temi che effettivamente sono entrati con pessimi neologismi nel nostro gergo quotidiano e che fanno paura. Alla stessa stregua nuove forme tecnologiche stanno crescendo per contrastare, barra cercare di frenare questa egemonia e cercare di riportare un controllo più massivo ai cittadini e alle persone. Cosa fondamentale e importantissima, ecco perché noi tutti i giorni ci occupiamo di questo. Il mondo è un posto molto carino, noi cerchiamo di farlo un po' funzionare meglio, ecco. Sono tuttavia fiducioso e ottimista nelle cose che facciamo perché attraverso la tecnologia effettivamente vediamo degli impatti sociali importanti quotidianamente.